Difendere la spesa quotidiana di tutti, nessuno escluso, la qualità dei prodotti e impegnarsi a testarli, sostenere i diritti civili, proteggere l'ambiente, la pace e il futuro. Se lo fai insieme ad altri 6 milioni di soci è una cosa grande per tutti, perché la COP non è di uno, è di tutti. Sottoscrivi, diventa socio anche tu. La COP sei tu.